Il dialogo fra di loro, seppur è complicatissimo perché sono effettivamente due linguaggi completamente diversi, in questa struttura diventano complementari. Il titolo scelto è infatti Attraversamenti, dialogo a due sul fluire dello spazio e si tratta di una bipersonale nel Salone Espositivo di Rosiboa ad Arezzo, in mostra le opere di due artisti romani d'eccellenza come Prima Rosa Cesarini Sforza e Tommaso Cascella, che reinterpretano e ridefiniscono lo spazio attraverso le loro opere, 60 in tutto realizzate tra il 2000 e il 2024. Due linguaggi completamente diversi, da una parte quello di Tommaso Cascella che ha un intervento costituito da pitture che sono architetture costellate da simboli e che determinano uno spazio che è prima di tutto volumetrico, uno spazio che è da attraversare e da farsi attraversare. Dall'altra uno spazio invece più lineare, più carico di racconto, di memoria, di identità che è quello di Prima Rosa Cesarini Sforza, la quale appunto mette qui in evidenza anche altre tantissime forme di attraversamenti, nel senso che ci sono attraversamenti stilistici, attraversamenti tematici, nel senso che ci sono lavori in ceramica in vetriata, su carta, ricamo, assemblaggi, tessuti dipinti, insomma le forme di attraversamento sono veramente diversificate e molto sfidanti per l'osservatore. La mostra resterà visitabile sino all'8 settembre 2024.